Sabato 31 maggio 1986, l'Italia campione uscente apre il mondiale messicano. Allo stadio Azteca gli azzurri affrontano la Bulgaria. Sulla carta non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, invece dal risultato finale verrà un'ulteriore conferma negativa. 1-1. Al gol di Altobelli, segnato a due minuti dalla fine del primo tempo, replica Siracov a cinque minuti dalla fine della partita. Dopo una lunga serie di esperimenti, Berzot ha portato in Messico una formazione profondamente rinnovata, quali titolari della squadra campione del mondo restano Bergomi, Cabrini, Scirea, Conti e Altobelli. Considerato poi che Bergomi e Altobelli in Spagna non erano titolari, la formazione è in pratica mutata per 8 undicesimi. Ma non basterà, dopo un altro pareggio con l'Argentina, in un incontro che i critici definiscono un tacito patto di non-aggressione,